È passato un anno eppure nulla è cambiato, anzi forse tutto è peggiorato e questo è il grido d'allarme lanciato dal movimento delle partite IVA Brindisino, che vive con particolare apprezzione il tempo presente, guardando con forte preoccupazione in particolare il futuro. La critica è anche politica però in particolare sulla gestione di questa nuova zona rossa per la Puglia. L'ultimo messaggio della nota diffusa dal movimento Brindisino esprime le difficoltà per le partite IVA, di guardare al futuro. Non si riesce più a vedere la luce in fondo al tunnel, dicono, e probabilmente molti quella luce non la rivedranno più. Dopo un anno purtroppo la situazione è solo peggiorata. Da Roma avevano previsto la zona arancione per la Puglia ma il nostro governatore ha optato per una zona rossa. Dal nostro primo cittadino ci saremmo aspettati più polso e più fermezza nel cercare di applicare quello che è lo stile Lombardo, che prevede delle differenti colorazioni in base alle province e in base alle reti di contagio, ma tutto ciò purtroppo non è avvenuto. Chi paga le conseguenze di queste scelte sono sempre le stesse attività, sono sempre le stesse partite IVA, che purtroppo ormai da un anno a questa parte aprono l'intermittenza, considerando anche che i ristori sono stati come dei cerotti su delle ferite d'arma da fuoco. Ci aspettiamo che tutto ciò presto cambi, che il governo comunque si renda conto che così non si può andare avanti e che anche la regione dia una mano a tutti noi.